Ciao a tutti, bentrovati sul mio canale Cristiano Ruiu TV. Vi ricordo che se volete sempre rimanere aggiornati con tutti i contenuti che produciamo, dovete cliccare sul tasto iscriviti che trovate proprio alla destra del vostro canale YouTube. Di cosa parliamo oggi? Come avete visto nel titolo, l'argomento è un po' particolare, lo avete capito anche dalla miniatura, ed è il primo capitolo di una playlist dedicata alla mia carriera e poi ovviamente anche di conseguenza alla mia vita. Il perché di questa playlist, ma soprattutto il perché di questo video e che cosa troverete in questo video. Parto dalle domande, dalle considerazioni che molti di voi fanno in maniera garbata o meno garbata, da tanto tempo, sui social, su Facebook, su Twitter e anche qui su YouTube. Tantissimi mi domandano, alcuni lo fanno anche in buona fede e con le buone, altri invece meno, ma sei davvero milanista? A questa domanda a volte non basta rispondere con un semplice sì. Devo dire la verità, dal mio punto di vista mi sembra veramente strana come domanda, perché non ho mai nascosto, anzi tutt'altro, la mia fede calcistica e l'ho manifestata da quando ero molto molto piccolo. Come vedete nella foto, nella miniatura, che poi è questa, diciamo a grandezza naturale. Questa è una foto mia che esultavo sul balcone della mia prima casa con i miei genitori a Milano e questo era lo scudetto dell'87-88. Esattamente questo è il giorno di Como Milan e poi alla sera i miei genitori con degli amici mi avevano portato a San Siro per il saluto della squadra del presidente di Arrigo Sacchi. Fu un'emozione indimenticabile proprio in quel giorno. Di giorno dunque in giro con il bandierone per Milano e poi alla sera a San Siro. Fu un'emozione davvero incredibile, indimenticabile. San Siro aperto a tutti, gratis, ce ne sono state centomila persone. Invisibilio perché poi quello era il primo successo dopo tanti anni brutti, gli anni della Serie B, gli anni del quasi fallimento, anche di gestioni molto molto discutibili. Insomma un Milan povero, chiacchierato e quella era davvero la prima tappa della resurrezione e me la ricordo davvero con un piacere straordinario. Poi parleremo del mio essere innamorato del Milan da sempre. Dicevo, questo video dunque vuol raccontare un po' la mia storia di milanista che non è soltanto quella che avete cominciato a vedere a partire dagli anni 2000 in diretta su Tele Lombardia ma ha, come avete visto da questa fotografia, origini precedenti. Ecco, perché sento il bisogno di dirlo? In realtà a me stesso non sento il bisogno di dirlo. Sento il bisogno di dirlo a quelli che mi chiedono ma sei juventino, ma sei interista. Ora, è inutile anche dire che è un po' superficiale siccome uno fa un video sull'Inter dire ma sei interista, esattamente come se uno fa un elogio alla gestione societaria della Juve fa ridere dire sei juventino. Anzi, io credo che un giornalista con una coscienza professionale basata sull'obiettività perché no? È giusto che dichiari la propria fede calcistica. Parliamoci chiaro, tutti i giornalisti sportivi iniziano a farlo per passione e la passione vuol dire tifo quindi tutti, chi più o chi meno partono da lì ed è, secondo me, anche un po' così non trasparente evitare di dichiararlo o negarlo a tutti i costi. Chiunque parte da una fede calcistica poi la professione, l'obiettività, l'oggettività devono travalicare, superare i limiti che ti pone la passione ma non si può estinguere, non si può eliminare non si può togliere non si può, se è vera passione se è una fede calcistica, cambiare assolutamente no ciò nonostante non è vero come è accaduto a me che un giornalista milanista che si dichiara milanista non possa seguire in maniera obiettiva oggettiva il basket il Brescia, la Juve un altro sport o un'altra squadra o non possa essere libero di elogiare e fare i complimenti a un'altra squadra o e qua veniamo al vero punto nodale criticare la propria anzi essere totalmente acritici non significa essere tifosi significa essere stupidi se uno vuole bene a una persona a un gruppo a un'azienda e a una squadra di calcio credo che abbia il dovere di essere critico nel vederla nel parlarne e nel giudicarla se ne vuole il bene se invece l'obiettivo è quello di far passare una verità in ogni caso e a ogni costo o nel caso di una squadra di calcio prendere in giro a ogni costo i tifosi allora si può tranquillamente non essere critici ecco io non ho mai scelto di essere questo ho sempre scelto di essere critico con il mio Milan proprio perché l'ho sempre amato alla follia da quando sono bambino piccolissimo diciamo che la mia passione come per tutti i bambini per il calcio nella mia natura è nata all'asilo per il calcio in generale ma per il Milan in particolare nasce dal fatto che mio papà era milanista super tifoso del Milan sempre allo stadio eccetera eccetera e quindi nasce sicuramente da lui viene coltivata dal fatto che quando ero piccolo Carlo Pellegatti era un collega di lavoro di mia mamma e io quindi ho iniziato a conoscere a frequentarlo all'epoca lui non faceva il lavoro di giornalista come lavoro principale ma era milanistissimo come assolutamente come adesso e anche grazie a lui si è accresciuta in me questa passione io andavo in ufficio a trovare Carlo quando avevo 6-7 anni e tutto l'ufficio era rosso nero ogni tanto mi regalava una foto una foto autografata io impazzivo e proprio con Carlo e con mio papà sono andato a vedere la mia prima partita che fu a San Siro che fu Milan-Sandoria 2-2 erano proprio nei giorni che stavano determinando il passaggio l'acquisizione del pacchetto azionario di maggioranza di Silvio Berlusconi dalla precedente gestione che l'aveva praticamente ridotto vicino ai libri di tribunale ricordo questo striscione enorme in curva sud che recitava Silvio Milano ti ama non era ancora presidente del Milan ma lo stava per diventare ricordo questa partita Milan-Sandoria io ero ovviamente emozionatissimo anche perché seguivo tutte le le radio cronache all'epoca lavorava nelle nelle radio private di Carlo Pellegatti con i suoi soprannomi che io ovviamente sapevo tutti a memoria aveva scritto anche un libro proprio nell'87 se non sbaglio che si intitolava Rossoneri siamo noi dell'87-88 e addirittura mi ricordo la mia emozione perché mi aveva fatto delle domande su come vive e che poi aveva inserito in questo libro come vive un bambino milanista i suoi anni insomma l'infanzia rossonera e ero rimasto davvero molto molto orgoglioso di questo grazie e poi inizio a frequentare andare allo stadio ho la fortuna di seguire il milan la prima tessera l'ho fatta nel primo abbonamento l'ho fatto nell'89 l'anno dopo la conquista della della coppa campioni a Barcellona tra l'altro proprio in quell'anno 88-89 avevo visto tutte le partite in casa del milan in coppa campioni col Vitocia Sofia con la stella rossa col Werder Brema uno dei miei primi drammi da tifoso fu Milan-Real Madrid il 5-0 perché avevo i biglietti mi ricordo ancora adesso primo anello verde e al mattino della partita mi sveglio con 39 di febbre e mia mamma non mi fa andare allo stadio dramma disastro ero disperato veramente disperato purtroppo mi era avuto un mal di gola non mi ricordo cosa da questo punto di vista mia mamma mi aveva impedito di andare allo stadio non c'era stato mio papà aveva provato a intercedere ma non c'era stato verso proprio non passava questa logica anche perché a differenza di mio papà mia mamma non è mai stata tifosa e quindi non ha neanche mai capito questa grande passione che coltivavo e che coltivavamo fino in fondo e quindi non sono andato abbiamo regalato i biglietti di Milan-Real Madrid 5-0 immaginatevi la sera della partita come ero felicissimo naturalmente per quello che vedevo e sul quinto gol mi sono ribellato e sono uscito dal balcone cioè dal balcone sul balcone con la tromba per festeggiare c'era Milano che era ovviamente in delirio invisibilio e poi dopo la finale mi ricordo i caroselli in Duomo insomma anni davvero straordinari talmente tanta era la passione che riuscì a convincere appunto mia mamma a farmi fare la testa insieme a mio papà e ho cominciato a andare dall'anno dopo quindi l'anno della coppa campione successiva allo stadio avevo la tessera al primo anello rosso e da lì in poi sono stato abbonato fino a quando non ho cominciato a lavorare a Tele Lombardia e apro una piccola parentesi grazie alla conoscenza con Carlo Pellegatti io già da da quando avevo 8-9 anni andavo oltre a guardare tutte le trasmissioni sportive alle quali poi avrei partecipato andavo ogni tanto ospite a Tele Lombardia in un programma che a lunedì sera che si chiamava l'Accademia di Brera perché c'era Gianni Brera e ogni settimana c'erano ospiti che ne so Baresi Bergomi uno per il Milano uno per l'Inter tutte le settimane poi dopo si chiamò Contropiede sempre la stessa trasmissione sempre a lunedì sera e c'era una rubrica che si chiama la rubrica del piccolo intervistatore eravamo io altri due bambini che facevamo le domande ai protagonisti tra l'altro ho ancora qualche videocassetta dell'epoca qualche VHS dell'epoca in una di queste puntate era proprio l'89 c'era Carlo Ancelotti ospite e io domanda alla bambina avevo 10 anni gli chiesi preferiresti vincere il campionato la Coppa Campioni o la Coppa Italia e lui mi rispose la Coppa Campioni che poi vinse e anni dopo quando venne ospita a Tele Lombardia da allenatore del Milan me la feci vedere in diretta insomma fu un ricordo avevo una giacca improponibile a quadretti bianchi la ricordo ancora adesso e fu un ricordo molto molto bello anche riviverlo poi a 20 anni di distanza con il protagonista che era appunto Ancelotti dicevo quindi vivo i miei anni da tifoso ai 15-16 comincio ad andare in curva in casa in trasferta e poi arriva questa possibilità appena finito il liceo ero proprio super tifoso malato ma malato ricordo le lacrime dopo la sconfitta in finale col Marsiglia nel 93 lacrime di disperazione quando Milan perdeva non parlavo almeno fino all'indomani mattina mi ricordo una volta al liceo che la professoressa di chimica era un interista schifosa no scherzo scherzo sullo schifosa e mi ricordo che in Milan era uscito la sera prima con il il Rosenborg dalla Champions League perdendo in casa Arrigo Sacchi era tornato allenatore l'indomani mattina ovviamente tutti sapevano della mia passione l'indomani mattina la professoressa di chimica mi chiede Ruiu puoi essere interrogato o sei troppo scosso per ieri sera e mi ricordo che nonostante fosse una professoressa nonostante io fossi molto molto giovane le dissi se lei mi vuole interrogare mi chiede di chimica non mi chiede della partita non mi aveva interrogato ero stato abbastanza perentorio nella mia risposta perché mi dispiaceva veramente tanto per quello che era successo la sera prima al di là di questo aneddoto dicevo arriviamo a quando finisco il liceo e ho la possibilità di entrare a fare questa sorta di stagio a Tele Lombardia mi chiedono la disponibilità ovviamente come tutti quelli che fanno il giornalista sportivo soprattutto anche da sempre insomma il sabato e la domenica perché è il momento in cui c'è più bisogno c'è bisogno di uno stagista che all'epoca si segnavano i minuti delle azioni importanti delle partite per poi creare gli highlights li creavamo direttamente montandoli in sede non come adesso che vengono forniti dalla Lega Calcio e mi chiese la disponibilità ovviamente c'era allora direttore Micheletti il sabato e la domenica io tornai a casa e dissi a mia mamma guarda ho rifiutato come hai rifiutato eh sì ho la testa del Milan come faccio andare il sabato e la domenica andare a lavorare e non andare a vedere il Milan e poi diciamo che mi mi convince del fatto che sarebbe stata una buona opportunità per coltivare quello che era il mio sogno perché il mio sogno da bambino era diventare giornalista sportivo e allora diciamo che mi ha aiutato in questa scelta dolorosa al momento perché figuratevi togliere un ragazzo di 19 anni che viveva di Milan e per il Milan la possibilità di andare allo stadio con la tessera in mano perché parliamo di settembre avevo appena rinnovato la tessera forse avevo visto la prima partita mi ricordo era veramente difficile però meno male che mi ama ce l'ha fatta meno male perché poi da lì è cominciata la mia la mia carriera il mio lavoro da giornalista che è diventato molto molto importante grazie all'arrivo a Tele Lombardia di Fabio Ravezzani che mi ha valorizzato nella valorizzazione mi ha insegnato soprattutto a fare questo lavoro perché come dico sempre oltre a fare tanti sacrifici per questo lavoro anche economici non c'è una scuola un corso che ti insegni a farlo hai bisogno soprattutto di esperienza di marciapiede e di buoni esempi e buoni insegnamenti e sicuramente da questo punto di vista Fabio Ravezzani è stato per me molto importante molto importante perché poi mi consente di seguire in prima persona una squadra il Brescia ho la fortuna di trovare gli anni d'oro di Baggio di Mazzone di Pirlo di Guardiola è stata un'esperienza eccezionale del presidente Corioni con il quale avevo un grande rapporto per quattro anni dopodiché c'è la possibilità di fare uno step successivo e seguire la Juve che ovviamente era più importante del Brescia giocava in Champions League eccetera eccetera da professionista quindi da giornalista esattamente come avevo fatto con il Brescia avevo fatto con il Parma con il Piacenza e accetto perché è ovviamente uno step in più per la mia carriera che poi si rivelano anni davvero molto importanti per la mia formazione professionale sono gli anni anche in cui mi laureo divento professionista eccetera eccetera e inizio quindi a seguire la Juventus moltissimi essendo Tele Lombardia un po' la televisione da sempre ho conquistato da voi stadio dei giornalisti e tifosi identificavano Crudelio e Olmila Rossi con l'Inter e Ruiu segue la Juve quindi a Juventino nonostante io abbia sempre dichiarato già precedentemente la mia avessi sempre dichiarato la mia fede rossonera che racconto qualche episodio divertente continuavo a coltivare e mantenere in quegli anni che poi erano gli anni di Kakà di Shevchenko stupendi spettacolari quindi spesso mi accadeva magari di fare la cronaca della Juve al pomeriggio le interviste al Delle Alpi gelido e poi di corsa scappare a San Siro anche magari infrangendo qualche e non si deve fare mai norma del codice della strada però dovevo arrivare in tempo alle 20.30 per vedere il posticipo se c'era il Milan e l'ho fatto varie volte ho fatto anche qualche qualche cazzata nel senso che per esempio mi ricordo una molto divertente come dicevo prima nella postazione nostra al Delle Alpi faceva un freddo terribile non come adesso qua siamo a Lugano ma sembra di essere ai Caraibi oggi era molto fredda quella postazione quindi io mi attrezzavo con cappelli c'è anche qualche immagine in giro su Youtube con calzamaglia scaldotto addirittura e avevo i doppi guanti sopra avevo dei guanti normali forse di camoscio e sotto i sottoguanti che mi consentivano anche di scrivere e di prendere appunti durante la partita stavo seduto fermo al freddo dalle 13 alle 18 quindi parliamo di 5 ore di gelo e i sottoguanti erano dei guanti neri con il sistema del Milan che mi aveva regalato Gattuso dopo un allenamento ai quali ero affezionatissimo quindi andavo a vedere sempre la Juve con i sottoguanti del Milan succede una volta che sono convinto che siamo in pubblicità e quindi sono lì che mi sistemo i miei guanti e invece ero inquadrato ero in diretta e tutti vedono che avevo il guanto del Milan e quindi ovviamente non era proprio pensate a tutti i tifosi juventini che vedevano che quello che raccontava la Juve non solo non era juventino non era neutro ma era proprio milanista negli anni della massima rivalità erano gli anni di Manchester 2003 e ovviamente non era opportuno farlo vedere in quel modo tant'è che Ravezzani quando ritorno quel giorno in redazione mi stronca giustamente anzi me l'ha detto al telefono tenevo la cornetta a questa distanza mentre tornavo in macchina altra cosa che non si deve fare però a distanza di anni è rimasto un ricordo divertente piacevole arriviamo poi alla fine del 2006 quando Tiziano Crudelli che all'epoca seguiva il Milan col quale avevo anche un ottimo rapporto e andavamo spesso allo stadio insieme quando io ero libero si trasferisce va in un'altra emittente e quindi Fabio Ravezzani mi propone di seguire Milan in prima persona sapendo perfettamente che era il sogno della mia vita e quindi inizio dal 2007 a coronare questo sogno mi ricordo che la prima partita ufficiale telecronista a San Siro fu un Milan-Regina 3-1 erano anche i giorni in cui Milan stava comprando Ronaldo quindi addirittura vado a Madrid per seguire la trattativa Ronaldo che va in porto e insomma furono anni veramente bellissimi poi quell'anno lì pronti via seguo il Milan vinciamo la la Champions League e vado in trasferta inviato ad Atene e poi inviato ancora Yokohama a dicembre per il mondiale per club veramente il 2007 per me è stato un anno molto 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 importante ricordo la trasferta di Monaco di Baviera stupenda spettacolare erano andati in giornata in macchina a Monaco ero tornato dopo la partita facendo il gottardo una nevicata pazzesca tutto ghiacciato l'emozione per aver passato quel turno era tale per cui sono arrivato a casa tipo alle 5 e mezza alle 6 di mattina non riuscivo a dormire dall'emozione insomma ricordi molto molto belli di quell'anno e poi seguo il Milan per tutti questi anni con le cronaca Milanello anni stupendi con ricordi particolari cito soprattutto quando siamo andati con con Andrea Longoni a Madrid a consegnare i messaggi d'amore dei milanisti per Cacà 11.000 messaggi quello fu un momento molto toccante molto emozionante che che porto ancora adesso nel cuore anni stupendi che poi insomma sono cambiati perché in Milan come dicono tutti i giocatori tra gli ultimi Ibrahimovic Bonaventura è cambiato in tanto è cambiato dal punto di vista sportivo organizzativo di marketing di rapporto con i giornalisti di rapporto con i tifosi sono cambiate tante cose ne parleremo negli altri video già abbiamo iniziato a parlarne in alcuni di tutto quello che è successo approfondiremo anche i dettagli retroscene i personaggi il legame con alcuni personaggi non voglio però entrare adesso in questo sicuramente il mio rapporto con il Milan società è peggiorato in quegli anni 2012 2013 lavoravo ancora collaboravo ancora con Milan Channel grazie a Mauro Suma che mi invitava una o due volte alla settimana e anche quelli sono stati anni molto belli molto piacevoli con una redazione straordinaria quella di Milan Channel fatta da ragazzi in primis ovviamente Claudio speciali poi accadde che feci un articolo su Spazio Milan un sito con il quale collaboravo in cui snocciolavo i numeri della nuova sede del Milan di casa Milan e in cui facevo vedere che in realtà non era un progetto così economicamente valido anzi rischiava di essere un boomerang cosa che poi nei bilanci del Milan si è rivelato tale mi arrivò una telefonata che mi chiese di ritrattare quell'articolo di farlo cancellare è un articolo giornalistico fondato con dati concreti mi rifiutai e da lì in poi non veni più invitato a Milan Channel ma la cosa ci sta perché Milan Channel è un house organ ed era giusto che fosse libero di invitare o non invitare chi volesse quindi se io avessi voluto pensare qua arriviamo al motivo del titolo ai soldi e non alla mia coscienza professionale avrei detto sì sì ho scritto una marea di cazzate scusate e si sarebbe risolto invece per me il Milan è sempre stata una passione un amore e lo è ancora adesso non è mai stata la mia professione la mia professione è sempre stata fare il giornalista non fare il milanista il milanista l'ho sempre fatto vi ho fatto anche l'esempio degli anni della Juve con il cuore anche nel tempo libero perché non era un lavoro andare a vedere il milan era un piacere poi quando ho potuto abbinare le due cose ancora meglio ma è sempre stato e ancora adesso è un piacere l'anno scorso con Gattuso allenatore sono andato in giornata a Frosinone a vedere Frosinone Milan senza di niente a nessuno tante volte sono andato in tribuna senza andare in tribuna a stampa a vedere la partita dipende poi da come l'aria intorno al milan se c'è passione se c'è entusiasmo no anche perché adesso come molti di voi sapranno faccio un altro lavoro non è quello il mio lavoro principale il giornalista sportivo ma mi occupo di marketing per il casino lugano quindi non è anche tutto questo tempo libero ma quando ce l'ho sicuramente amo ancora seguire il milan che rimane un amore non l'ho mai fatto per soldi mi è dispiaciuto però che nei momenti in cui criticavo e qua dedicheremo un video ad hoc le scelte proprietarie societarie del milan che portavano secondo me a una deriva che poi è quella alla quale abbiamo assistito in questi anni disastrosa per il milan venivo tacciato di non essere milanista perché criticavo le scelte purtroppo avevo ragione purtroppo anche in quel momento parlavo sentivo vivevo per il bene del milan a differenza di altri che mi attaccavano anche duramente anche scorrettamente anche squallidamente per difendere il loro stipendio la loro sedia non con gli interessi del milan ma di questi argomenti parleremo nei prossimi video che magari sono quelli con qualche cosa di non detto di qualche retroscena insomma che riguardano i cambi di proprietà veri finti supposti tali il mio rapporto anche con la dirigenza precedente in particolar modo galliani ne parleremo sempre in questa playlist sempre sul mio canale Cristiano Ruiu TV ciao a tutti ciao a tutti